Salve a tutti! Benvenuti in una puntata di questa serie su The Division 2 chiamata Divisione Atria ovvero la storia di un uomo, un grande uomo, un grande uomo di una volta che vuole ripristinare i valori di una volta, i valori quelli veri, quelli belli, quelli giusti quei valori che portano un uomo verso le cose belle, verso i grammofoni, verso queste cose qua Ora, abbiamo una missione secondaria a fare Dobbiamo mettere in sicurezza sto posto Cosa vorrà dire metterlo in sicurezza? È qualcosa che non sappiamo Ma intanto entriamo e vediamo di mettere in sicurezza Perché Adrian fa anche questo Adrian mette in sicurezza Mette questo Ripristinare i vecchi valori una volta E mette in sicurezza Nei uomini E nelle persone Ora Qua c'è questa missione secondaria In un posto Piuttosto bruttarello E qua mi sa che finisce malissimo Ma va bene così Io A questo punto Lo metto qui Ok Ah là c'è uno Soccettino Mentre quello sta facendo fuori Quello là sta facendo veramente fuori tutti La torretta Non pensavo fosse così efficace la torretta Ah Niente La torretta veramente le ha feccati tutti Ne è rimasto solo uno E fra poco C'è nel tempo che ha tolto Vabbè Incredibile Grande torretta Avanti Olè Poi No Aia E adesso la torretta non c'è più Ah Oh Meno male che questa cosa è andata Poi Adesso 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 un po' casino Ah Mi dobbiamo mettere in sicurezza Porca miseria Porca Olè Ah Ok Raggiungi il tetto Ah Ok Va bene Proseguiamo il lavoro Dal tetto Aia Però mi sa che questa missione comincio a ricordarmela Comincio a ricordarmela come qualcosa di brutto Tanto Facciamo un po' un giro Vediamo se qua c'è qualcosa di interessante No Qua da dove siamo arrivati Forse Sì Qua da dove siamo arrivati Va bene Ok Scherzavo E allora Oh no Non ci sto capendo nulla Non ci sto capendo nulla Non ci sto capendo Assolutamente nulla Andiamo di là Andiamo di là Dobbiamo andare sul tetto Ok Riforniamoci Di munizioni E poi E poi con cavoli Però porca mi sembra Dove Dai cerchio E andiamo su Il nostro Adrian C'è la può fare Avanti E la porca Porca Vieni Ok E' agente che sia supporto A questo minuto Sono impegnato Olè Basta Ah posso Olè E torniamo Penso di andare di qua Ok E infatti Di là C'è la porta C'è qualcosa Che può servire Da saccheggiare Saccheggiiamo E vabbè Vestiti E vabbè Ok Andiamo Qua c'è Oh Un'altra cosa Un animale Di peluche Qua c'è Perché me lo fa tutto Con la ragione Attorno Vabbè Apriamo la porta C'è C'è E mo Aspetta Saccheggiamo Saccheggiamo E non c'è Più E non c'è più altra Saccheggiamo E mo che dovremmo fare E mo che cosa Ah ok Qua è esploso qualcosa Qua Cosa che c'è Munizioni esplosive Ok Va bene Munizioni esplosive Io spero che non servano Ma intanto Controlliamo Qua c'è niente Saccheggiamo 5 di cibo Va bene E Quindi dobbiamo andare di qua I tizi ammazzare Sono qui Però qua c'è una cosa Saccheggiamo Ok No Aspetta Sembra non esserci nessuno Vabbè Ah Ma arriveranno E lo so che arrivi Eccoli Eccoli Eccolo Penso sia uno solo Ma E' la peppa Il cavolo Che è uno solo Porca miseria Ok Porca Allora Calma Ah Questo è andato Poi Sotto tiro Sotto tiro Guarda Tieni fuori Vieni fuori Vieni fuori E là Porca miseria però Prima un po' Lo butto giù Tieni fuori Porca Vabbè 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 Prima o poi Lo prendo Oh E' andato Ce ne sono altri E che fa Come di sbagliare Posso metterlo qui sopra Qua Oh Niente Oh Ne sta arrivando uno A te sto aspettando Tranquillo Eh Niente Non ci sei neanche arrivato Là c'è tipo un cecchino Un crato Le torrette La torretta piazzata Il posto giusto E' una manna dal cero Pappete Poi Ok Grande torretta Aspetta che Olè Ah Questo è quello viola E' andato Era quello viola Io so che arriverà il boss Adesso No Ti chiedo che queste Missioni secondarie Spesso ci hanno il boss E ora E ora ci pensiamo Questo Preso Questo Altro Cosa E questo Preso C'è per caso C'è per caso Una cosa Dove fare Rifornimento Perché non sarebbe Una cattiva idea E infatti Rifornimento Riforniamoci qui Olè E adesso Cerchio Ma Posso un attimo Scusa La mia torretta Si è già spaccata Vabbè Devo soltanto Aspettare il cooldown Va bene Allora Cerchio E' il nostro Guardate che bello Il nostro Adrian Guardate che bello Il nostro Adrian Che bello Il nostro Adrian Che bello Metti in sicurezza Forse è qui Che si nascondono le iere Entra in quest'ala Del complesso E metti la sicurezza Ok Dobbiamo metterlo in sicurezza In questo complesso Bisogna metterlo in sicurezza Metti in sicurezza Significa Seccare quello E poi Dare inizio Al macello Però io Non c'è niente Però io Onestamente Quasi quasi Aspetterei Cooldown No ma anche no Senti Amen Tanto Posso resistere 20 secondi Ok Ok A posto Poi Là Non c'è più Ah Sono là sotto Sono tipo sotto Non saprei Tanto là c'è una roba Aspetta Che qua Ok 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 Io però Aspetta che io Se posso fare Una cosa bellina Eh Dimmi che posso Sì Vai di torretta Che gliela piazzoli In mezzo Gli scatteno L'inferno Hi Ok Ok Avanti Dove sono Dove Avanti Vieni fuori Un altro ce n'è Ole Sono lì E ne sono altri Ok Vieni Vieni Uh Oh Porca miseria Aspetta che E questo Tu dove sei saltato fuori Vieni Eh Vieni fuori Vieni fuori E tu Ce ne sono altri Sì Olè Io non ce ne sono più Però Bella manovra Me la stai ne pensato bene Tu dove sei Vieni fuori Ah Anche tu Fa il giro Ah A posto Ah Me la siete pensata bene Devo dire Qua Inutile provare Probabilmente Ci si arriverà Facendo un giro Di qua Perché se loro Da lì Sono arrivati qui Sarà possibile Anche il contrario Ehi guarda qua Ehi guarda qui Ma c'è qualcosa Da poter prendere Oh Che Mi dispiace Non ti è riuscito Il nostro Adrian E' sempre pronto Rilevo ancora del movimento Nell'edificio S Uh Vai lì Sistemiamo questa faccenda Uh 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 Eh minchia E' qua Però qua se apro Aspetta 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 Che vedi qua Poi io Sistemare la faccenda Ok Io te Aspetta Oh Avanti C'è nessun altro Bene Io però Quell'oggetto Volevo prenderlo Non c'è modo Di tornare indietro Sì Forse sì Salta Sì Olè Ah E saccheggiamo anche questo Perfetto Adesso si entra di qua Apri porta Poi penso Chi si rifornisce No Io mi ricordo Come si La ruota Ah no Questa è la cosa No Niente Non Non mi ricordo Come si fanno Le terminate cose Vabbè Fa niente Andiamo dritti Spediti Adrian Pronto Saccheggiamo anche qua Prego Recuperate Granate Porca di quella Trota Ci sono dei depuratori d'acqua Dalla parte opposta del tetto Sarebbero utili al teatro Aspetta Oh Oh Ok Boom Boom Porca miseria Con queste granate Ah Vediamoci così Che è sceso Dove è andato Quello E' andato giù Quello Aspetta che Oh Che c'è uno Che vuole fare lo scherzone Vuole fare lo scherzone Adrian Ma Adrian Tutto Vedi tutto Capisce tutto Anticipa tutto Pure quello Olè La corazza Adrian La corazza Ok Porca miseria Ok Anche questo è andato Poi Ce n'è un altro Lo so Lo so Olè Va bene Il complesso condominiale è nostro Oh Fatta Grazie a questi orti Il teatro avrà viveri e acqua in abbondanza Odesse ne sarà buscata Alla grande Richiesta di supporto E' richiesta E' ok Va bene Richiedi supporto Ma C'è poco Che posso sopportare Ecco Qua c'è quello per scendere Ora Però voglio vedere un attimo La situazione Alla c'è delle munizioni vecchie Che chissà come ci si arriva a prenderle Ma io voglio vedere se per caso qua c'è Ah qua per uscire è questo Ma io voglio vedere se c'è qualcosa da saccheggiare Un premio Un motivo valido per cui si è avvenuto qui Chiave delle iene Ovviamente non ce l'ha Ho una chiave d'accesso A che cosa Non mi è evitato saperlo Però c'è una chiave d'accesso E ce l'ho credo dalla Dalla scorsa puntata addirittura Ma niente Ho capito E allora Niente Si va via Missione abbandonata E A posto così Bene Qua ci sono delle munizioni per motivi a me sconosciuti E mo voglio capire dove mi trovo però Sono in mezzo alle arance Che è un mercato Ortofrutticolo Che cosa Dove sono Aspetta Che qua c'è una roba Qua C'è una roba Qua c'è qualcosa da qualche parte Il radar mi dice che qua c'è qualcosa Ma in realtà non c'è niente E Va bene E ok Va beh E allora Si vede che devo andare via Non lo so Qua cosa c'è Cosa Cosa Sto scendo Semplicemente me ne sto andando In tutta Con la Tristezza Va bene E Ok Direi che anche questa è andata Abbiamo Abbiamo liberato un posto dove ci sono dei bei orti Proprio una missione da lui comunque da Adrian Abbiamo liberato un orto L'orto è L'orto è la vita L'orto è la pace L'orto è E Sono E E il sappare la terra E' sempre E' sempre Legato ai cari Vecchi Valori di una volta Quindi Per il nostro Adrian Va bene Continua Quindi Direi che anche questa puntata Dalla nostra serie evento Su Dead Division 2 Può concludersi qui E quindi Ci diamo appuntamento Alla prossima Alla prossima Ciao Ciao Ciao